Nel 1987 sono arrivata solo quinta, solo quinta, e quanto mi hanno fatto soffrire anche i tecnici federali e la federazione tedesca, perché se io sono nata in Germania, ho fatto due limpiadi per la Germania e sei per l'Italia. Ero lì, quello che vi dicevo prima, sembrava che in quel momento stesse finendo il mondo, sembrava che in quel momento stesse finendo il mondo, ma quanto ha pianto. Il giorno dopo, quando sono arrivata a casa, avevo ancora gli occhi gonfi. E poi avevo appena conosciuto mio marito e lui mi guardava e diceva, mi dispiace, è perché sono entrato io nella tua vita, c'è dai, ce la farai. Io l'ho guardato e ho detto, guarda, non so cosa me l'ha fatto dire questa cosa, e io l'ho guardato e ho detto, guarda, adesso sono triste, però profondamente dentro di me ho la convinzione che nella mia vita me la saprò sempre cavare.